è tempo di luca nalo luca nalo analo anali luca anal e con questo nuovo pizzetto color blu diciamo come vediamo qua per fortuna non c'è dettaglio nei miei video perché è meglio questo è il nostro allora luca analo ragazzi luca analo dice che tu devi modificare il tuo universo tu che sei un topo da laboratorio e quindi non sentire quello che succede nel mondo sentiamo se le guardi entri nel loro mondo e di conseguenza quando sei nel loro mondo loro non sono in grado non sei in grado di poterti destreggiare perché sei partecipi a uno scenario che hanno deciso loro non sei più creatore della tua realtà creatore della tua realtà come fa un topo da laboratorio diciamo che può creare la sua la sua realtà ecco ragazzi ricordiamoci rocco bruno nostro nostro eroe nostro vediamo cosa c'è scritto qua progetto zion in zion anche luca nalo il pattern è sempre lo stesso e va bene su queste paurella qua vediamo queste qua con fiorellini e cuoricini queste qua vediamo un po omnia vincita amor esattamente luca grandissimo esatto ognuno deve trovare all'interno di se stesso l'energia non sei un topo da laboratorio guerrieri spirituali e mi ricorda il debunking che ho fatto di malanga che diceva la stessa cosa sul fatto che la pecora riceverà questa chiave per modificare l'universo puoi dire che hai la chiave come dice lui qua la chiave per gestirlo l'universo è un ologramma e lui ha la chiave per gestirlo cioè lui è dio e vuole fare se se compri il suo il suo experience experience qua potrei diventare anche tu dio diciamo ma guarda quant'è tenero con questa grazie grazie di cuore buon divertimento ci vediamo più tardi ciao tesoro ciao ciao dolcissima gentilissima freschissima daniela allora fa anche assistenza ah freschissima daniela ah 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 col suo pizzetto blu sentiamo altre perle qua capire che l'energia va dove si concentra l'attenzione quindi di conseguenza è importante posizionare la nostra attenzione verso ciò che vogliamo non verso ciò che non vogliamo capito pegola è così semplice basta non pensare al mondo che ti circonda e andrà tutto bene pensa positiva una tua gabbia pegola ragazzi ma vi volete svegliare come fai ma porca puttana pegola ma scusa pegola quando loro verranno con i fucili a a a prenderti no a noi risvegliati tu tu basta che non pensi basta che vedi che di fronte a te non c'è nessuno ci sono fiori e cuoricini pegola e lui sparisce ma pegola le devo di tutto altre perle dal pirla la salvezza in termini di comprendere che questo momento storico ci serve per evolvere per comprendere per uscire dal guscio per andare oltre il cielo oltre il